Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Un romanzo autobiografico che racconta la vita della famiglia di Filippo Olivieri, tra imprenditoria, vicende marinare, la dopoguerra d'oggi. La presentazione è avvenuta nella sala consigliare del comune di Grotta Mare, alla presenza di autorità e istituzioni. Non molti sanno che io scrivo film da piccolo, nel mio cassetto, nel mio ufficio, ho tante narrative, tanti racconti, tante poesie, che le lascio lì. Poi pian piano tiro fuori qualcosa. E questo romanzo è una terza pubblicazione, quindi io ho inattivo già due pubblicazioni a livello nazionale, con case editrici italiane. Volevo scrivere il nuovo romanzo, volevo pubblicare qualcosa per il pubblico, volevo pubblicare qualcosa e parlare del nostro territorio, perché il territorio ha offerto tanto a noi concittadini del Piceno. E quindi raccontare una storia inventata mi sembrava un po' riduttivo. Parlare di una storia di un'altra famiglia, di un caso industriale, mi sembrava un po' troppo forse impegnativo. Allora mi sono domandato perché non parlare del mio caso, della mia famiglia che nasce, la propria carriera nasce subito dopo il dopoguerra, quindi dall'immigrazione di mio padre, dai miei nonni marinai, dalla disgrazia del malfizia, da tanti problemi che abbiamo avuto in famiglia. Perché non raccontarlo in maniera romanzata? Perché sì, è vero, è autobiografico, ma è un'autobiografia romanzata, quindi di facile lettura, di scorrimento, e il lettore vuole arrivare al fine, perché nel finale c'è un epilogo molto affascinante. Si parla di territorio, si parla di famiglia, si parla di industria, si parla di alberghi, si parla di politica, si parla di riasamenti di calcio. Il libro uscirà a livello nazionale ad ottobre. Il libro parteciperà al premio nazionale, lo leggo, albero androinico. Nei prossimi giorni, chi vuole il libro, lo potrà comprare presso le serate, che ci saranno al Parco dei Principi, Arena Parco dei Principi, durante l'opera Suria. Tra gli apprezzamenti ricevuti dall'opera di Olivieri, anche quelli di Antonio Gerola, regista teatrale, ed Enrico Piergalini, sindaco di Grotta Mare. Da regista, da persone che l'ha coinvolto più volte, sono qui a testimoniare, insomma, è un piacere per me essere qui, e dire, chiedagli di continuare con questa sua passione, perché i risultati sono stati davvero molto importanti. Sono contento da amico di Filippo e da sindaco del Comune di Grotta Mare. È un libro molto intimo, che non rifiuta nemmeno l'estrema franchezza e l'onestà sulla propria vita.